Bianchi al centro per Sosa si scontra con Ferrara Sammer gol! al primo a fondo segna l'Inter al primo a fondo l'Inter passa in vantaggio con Mattias Sammer il gol di Mattias Sammer Inter in vantaggio a Napoli per una rete a zero si coordina il giocatore tedesco e il gol del vantaggio per l'Inter andiamo a rivedere Ferrara e Sosa i due non toccano il pallone Sammer è solo nel centro nell'area di rigore e può calciare a rete nulla da fare per Giovanni Galli Ferrara non va sul pallone va su Sosa i due non toccano la sfera e palla che cade grazie a tutti i due non toccano la sfera grazie a tutti i due non toccano il pallone